La leggenda è che è un mio live, o comunque un live in cui avevo suonato allo Zubar a Roma, quindi si parla di tempi di Blue Knox, insomma, tanto tempo fa. Fei periodi però. Sì, 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 sì. Secondo me, almeno io mi ricordo che mi hanno presentato... Che ho di Duke Montano. Esatto, Duke, dicendo che faceva beat, però era veramente piccolo. Perché io quel periodo andavo allo Zubar così per farmi un po' di canette così e no. Ma producevi già? Sì, ma non ero così serio. Sì, però producevi perché questo me lo ricordo, che mi avevano detto... L'MBC, subito. In quel momento, se pensi a quel momento lì, c'avevi Sick Luke, il pensiero qual è stato? Piccolo scureggio. No, 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 non me lo ricordo. In realtà non sono neanche sicuro che poi sia successa questa cosa. Allora, un altro ragazzo si mi assomiglia. Magari, sì. Sì, di Pontano, facciamo una foto. No, però... Beh, sì, spacca qualcosa, se ci pensi. Ok.